ciao a tutti siamo la comune di tempo di vivere siamo sulle montagne del piacentino durante questa crisi ci siamo resi conto di sentirci un po dei privilegiati abbiamo fatto questa scelta un po di tempo fa prima che tutto questo esplodesse e adesso ne stiamo godendo sempre di più i frutti perché non viviamo l'isolamento siamo insieme e siamo immersi in questa natura meravigliosa per cui ci rendiamo conto che vediamo le cose un po attraverso una bolla forse non ci rendiamo bene conto di quello che succede in città perché siamo qui siamo in mezzo alla natura siamo noi non siamo in tantissimi ma l'importante che camminiamo tutti nella stessa direzione e la scelta di vivere assieme con degli intenti e un cammino comune è la cosa più importante per cambiare il mondo in qualcosa di molto molto più bello e importante ciao 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 ciao